Ascolti TV il commissario Ricciardi 2 e il grande fratello VIP, chi vinto? Dati Audit e Leschardi ieri lunedì 13 marzo 2023. Ascolti TV, chi ha vinto la gara tra la fiction Collino Guanciale e il commissario Ricciardi e reality show di Alfonso Signorini grande fratello VIP? Ieri sera. Lunedì 13 marzo, sono andati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsasti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte Lino Guanciale con la seconda stagione della fiction, dall'altra Alfonso Signorini con i suoi vipponi. A un passo dalla finale. Ecco chi ha vinto. Dalle 10,00 saranno trasmessi i dati Audit e Leschardes la prima serata di ieri. Lunedì 13 marzo 2023. Su Rai 1 alla fiction Collino Guanciale il commissario Ricciardi 2 ha conquistato 3.621,000 spettatori pari a 19,7% di share mentre il reality show Grande Fratello VIP in onda su canale 5, ha ottenuto 2,862,000 spettatori con il 22,5% di share. Diamo uno sguardo adesso agli altri programmi Rai e Mediaset, qui invece potete leggere il nostro consueto approfondimento quotidiano con gli ascolti TV di tutte le reti generaliste e i canali Sky. Ecco com'è andata. Stasera, martedì 14 marzo 2023, la sfida tra la TV pubblica e Mediaset si rinnoverà. Nel preserale sarà nuovamente l'eredità, Rai 1, a sfidare avanti un altro, canale 5. In prime time sulla Rai andrà in onda l'ultima puntata della fiction Seidon e il mistero di Leila. Mentre su Rai 2 spazio a Belve con Francesca Fagnani. Su Rai 3 infine carta bianca. Passiamo a Mediaset. Su canale 5 la partita di Champions League Portobus Inter. Mentre su Italia un leiene show. Chiuderete 4 con fuori dal coro. Si visul meu nu are limite No, zboară peste tău, gândește limpede Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile Să fac totul ca la carte să rub rândurile Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel Trage de mine caracterul meu de fier Că baie ploaie vând niciun curcubeu Dar ce că toate astea-s doar în capul meu Si-mi zice du-te, nu mai sta Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja Arunca-ți toate visele într-o geantă și pleacă Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva